Eccomi puntualmente da Auto Motomarco in questa splendida giornata primaverile ad accogliermi come sempre e con piacere ritrovo non solo lo staff di Auto Motomarco ma il vero e proprio custode, il nostro Teo. Cosa ne pensi di Auto Motomarco? Teo oggi è praticamente nella sua più totale tranquillità, quindi lo lasciamo e noi siamo pronti per partire per un nuovo appuntamento di Auto Motomarco, state con noi!